ha giocato, poi prende posto Di Answer, i cavalli che sono agli ordini dello starter, partiti ricordiamo il ritiro di Lubinun numero 8, non corre, rimangono in set al via Irish Aplos dall'esterno, all'interno c'è Quankui Maxime, quest'in prima linea poi Di Answer che si porta ora in terza posizione a contatto insieme a Free Destination, poi ancora Captain Sensible in coda sono gli altri due, ovvero Verderame con all'interno Valmichi così sette concorrenti al termine della piegata che porta i cavalli sulla dirittura opposta all'arrivo davanti c'è Quankui Maxime, numero 3 in giubba azzurra, di fuori la grigia che è Irish Aplos in giubba gialla, all'esterno in giubba rossa avanza Di Answer che si trascina a Free Destination, Captain Sensible, per linee interne si getta Valmichi per linee più larghe invece galoppa Verderame, così all'imbocco della piegata conclusiva con sempre Quankui Maxime in vantaggio, mezza lunghezza davanti a Di Answer che inizia a essere montato dal suo interprete, si avvicina Valmichi insieme a Free Destination poi all'esterno avanza anche Verderame, Quankui Maxime deve provare a rispingere gli attacchi di Di Answer, Quankui Maxime e Di Answer sempre in linea, poi Verderame insieme a Captain Sensible ma sono ancora dietro, allora un match tra Quankui Maxime e Di Answer quest'ultimo che insiste, Di Answer che scatta su Quankui Maxime, Di Answer su Quankui Maxime per la terza Valmichi respinge Capitan Sensible Di Answer, Gregorio Arena nel finale hanno la meglio su Quankui Maxime 4-3 per la terza c'è il 5 di Valmichi che respinge il 2 di Capitan Sensible 6-51, Gregorio Arena insiste nel tratto finale alla meglio di Quankui Maxime i due che si erano staccati in lotta, il 4 che vince, al secondo il 3, al terzo c'è il 5 4-3-5, l'arrivo numerico ufficioso, questo è tutto per il momento la linea che torna alla nostra regia